E' importante rimanere concentrati, la gara d'andata aveva dato un bel vantaggio, quindi non bisognava però entrare in campo dei concentrati, la squadra è stata subito sul perso e ha segnato un gol importante già nella prima frazione. Sì, era il grosso rischio di questa gara perché poi i ragazzi facilmente battezzano gli ostacoli, quello che non volevamo era proprio dimostrare sufficienza nelle giocate, invece i ragazzi hanno subito approcciato bene che era molto importante. Per loro questi diventano veramente dei banchi di prova per poter poi un domani giocare partite di un certo livello, quindi la squadra sotto il profilo mentale ha dato una risposta buona, potevamo fare qualcosina di più, però considerando l'età sono molto soddisfatto anche di questa partita. Bella anche la reazione del gruppo dopo la rete dell'Olbia perché era un momento della gara in cui si poteva magari andare incontro a qualche difficoltà, invece metabolizzata la rete hanno subito ripreso ad attaccare. Sì, hanno dimostrato di avere un pochettino la partita sotto controllo, non deve accadere però di prendere uno schiaffo per tornare a reagire, però ripeto, l'obiettivo dietro queste partite normalmente sono i risultati però è anche la crescita ad abituarli a certe partite di buon livello, adesso abbiamo la fortuna di giocare altre due partite che saranno sicuramente ancora più dure di queste e quindi saranno ancora chiamati a delle risposte psicofisiche importanti i ragazzi. Ecco mister, continuo il momento magico dell'Entella, nel weekend c'è stata la promozione in Serie B, gli under 16 sono qualificati ai playoff, gli under 15 ai quarti di finale, un movimento in costante crescita. Sì, probabilmente stiamo raccogliendo i frutti anche del lavoro degli anni passati, quindi vuol dire che le scelte societarie sono state fatte bene, sono state fatte giuste, è chiaro che quando la prima squadra fa da traino come è accaduto in questo weekend, un po' tutto l'ambiente viene di conseguenza, quindi speriamo possa continuare questo bel momento con tutto il movimento del settore giovanile e di toglierci qualche altra soddisfazione.